Il gol oppure il gol, non ci sono vie di mezzo per Leonardo Perez e Franca Villafontana lo ha già visto, la determinazione del trentenne mesagnese, con Lima con la grande esplosività sottoposta. Se gol in campionato, vetta dei marcatori a meno uno e una rete anche in Coppa Italia contro il Monopoli. Un tandem da urlo con l'argentino Federico Basquets fino a una settimana fa. Quando andava in gol uno non segnava l'altro, un'alternanza anche negli ultimi 30 metri, oltre che dal dischetto. E dopo aver esultato entrambi i mercolediali veneziani, si sono ripetuti domenica contro la Bibonese, insomma ci hanno preso gusto. L'esultanza poi con la corsa sotto al settore dove c'erano moglie e figlia e baci spediti lì alle donne della sua vita. Un sorriso, fine partita, smorzato da una tripletta mancata, sarebbe stata la prima in carriera, e dal rigore fallito, anche in questo caso il primo della sua carriera. Ma pure un sorriso ritrovato in Puglia, dopo il giro pagare tra Ascoli, Cosenza e Piacenza. Franca Villa, un habitat naturale per chi della tigre agli occhi, ma anche gli atteggiamenti famelici in campo. Perez è tornato a fare ciò che più conta, i gol. Franca Villa sogna in grande con il suo bomber. Grazie per la visione!